Eccoci qui come state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, c'è sotto anche il link per la felpa dei 125 del Milan, indossatela se venite alla festa di Milanello, qui sotto c'è anche il numero per prenotare il vostro posto al fil di serie in ore 18.45 e il 22. Allora ragazzi, riflettendo insieme a Voce Alta, è incredibile come non tutti, la stragrande maggioranza dei giocatori che va via dal Milan poi fa molto bene, Simic all'Anderlecht è titolare, fa anche gol, molto giovane, Maldini, nato via dal Milan, subito convocato alla Nazionale, Kalulu, titolarissimo della Juventus, uno dei migliori della stagione della Juventus, se non il migliore. Adli, non pensavo, va via, tre gole e tre assist con la Fiorentina e partite di livello. Vasquez, è andato via pure lui, uno dei migliori partieri del campionato, che perderemo per 900.000 euro e l'Empoli si sfrega già le mani per una cessione molto remunerativa. Sto pensando se mi dico, beh, De Ketelare poi al fine è andato a migliorare anche lui, è andato a rendere molto di più di quello che non faceva il Milan. Spiegazione? Non c'è abbastanza pazienza, non è il contesto, non c'è l'allenatore giusto forse, o la dirigenza anche, direi tutto un insieme. Però è incredibile, se ci pensate, chi va via dal Milan poi va a stare bene a livello personale, a livello di rendimento, va a migliorare. Sicuramente c'è anche un fattore tecnico, Pioli prima, Fonseca adesso, ma anche dirigenza che ha spedito certi giocatori un po' troppo frettolosamente, che va a incidere nel dossier. Ditemi che ne pensate, ulteriore amarezza in una stagione molto molto amara, per non dire altro. Commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella e sicuramente mi sono dimenticato qualcuno. Per chi non ho grande memoria, sicuramente mi sono dimenticato qualcuno, è l'unico che magari non sta facendo bene, Pobega. Beh, Brescianini è un altro che è andato via, poi è cresciuto molto, è entrato anche nel giro razionale, del periodo recente, senza tornare a Bellanova e compagnia. Un abbraccio.